Terza corsia sulla 1 fra Incisa Reggello e Valdarno si va avanti. La conferenza dei servizi che si è svolta a Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fra i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, della Regione Toscana e degli enti locali, ha accolto quanto proposto dalla Giunta regionale e dai sindaci dei comuni interessati. Figline Valdarno, Reggello, San Giovanni Valdarno e Terranova Bracciolini. Via libera quindi non solo alla terza corsia ma anche a una serie di opere accessorie, come rotatorie, passerelle ciclopedonali e adeguamento di ponti, concordate fra regioni e sindaci e ormai entrate a far parte delle prescrizioni impartite a società e autostrade. L'assessore regionale alle infrastrutture ha sottolineato che, nella stessa vallata, è in costruzione anche la nuova strada regionale 69, nel tratto di competenza della città metropolitana.